Martedì 30 maggio, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a questo appuntamento con la Rassegna Stampa. Naturalmente i titoli che dominano le prime pagine dei giornali sono legate strettamente al risultato dei ballottaggi per le amministrative, con il centrodestra che si può dire ha di fatto preso quasi tutti i comuni nei quali si votava i capoluoghi, uno su tutti Ancona che non era mai stato guidato da un sindaco di centrodestra. Questo per quanto riguarda le aperture. Poi ci sono notizie anche per quanto riguarda gli esseri in Kosovo, sale, torna a salire la tensione, tra l'altro ieri vi abbiamo fatto proprio vedere in diretta dal Kosovo le immagini che poi abbiamo visto successivamente nelle altre edizioni degli scontri che ci sono stati, scontri anche violenti che hanno provocato il ferimento di circa 40 militari della forza NATO di interposizione, la K4, tra questi anche 13 italiani, sono dei militari alpini, alcuni sono rimasti feriti in maniera grave ma naturalmente non sono in pericolo di vita. Poi ci sono anche altre notizie importanti, la Spagna per esempio dopo il risultato delle elezioni, il premier Sanchez ha rassegnato le dimissioni e torneranno nuovamente a votare per decidere a questo punto quale dovrà essere il governo. E poi ci sono le notizie di cronaca, quella una su tutte, il Lago Maggiore, quattro sono le vittime del naufragio, dell'imbarcazione che si è capovolta per il maltempo. Insomma sono molte notizie, cominciamo dal Corriere della Sera, il titolo lo vedete, vittoria, netta del centrodestra, 5 ballottaggi su 7, strappate Ancona e Brindisi, Meloni è un dato storico, il PD prende e Vicenza, il sindaco Possamai che tra l'altro sarà ospite di Gaia Tortora più tardi nel dibattito, appunto è stato l'unico comune conquistato dal PD. A Catania, Tarantino, anzi Trantino di Fratelli Italia, ha eletto al primo turno, Schlein convoca la segreteria, dice un errore è correre da soli. Vi sfido, vi scusate, vi leggo rapidamente, il titolo è La sfida, ma è partita il commento di Roberto Gressi proprio sulle elezioni. È una doccia gelata per Elie Schlein, la scorciatoia almeno al momento si è rivelata un'illusione, l'idea che bastasse al PD, il brusco strattone delle primarie, un taglionetto con l'area riformista, un qualche successo nel riaffacciarsi nelle piazze, è stata trovata insufficiente dagli elettori, così scrive appunto nel suo editoriale. Queste foto notizie si riferiscono agli scontri in Kosovo, lo vedete Molotov sui soldati italiani, 14 feriti tra militari della Nato e manifestanti serbi. E poi ancora, restiamo sulla prima pagina, vi dicevo prima della Spagna, eccolo qui, conservatori popolari, l'asse che scuote la Spagna, un messaggio all'Europa e nella foto vedete il premier Sanchez che annuncia appunto le sue dimissioni. La notizia di cronaca, un accoltellamento ad Abbiategrasso, a 16 anni accoltella la professoressa per le note e un voto basso. E poi la notizia che vi dicevo è anche così abbastanza singolare perché stanno emergendo quasi i contorni di una sorta di spy story perché guardate, il Lago Maggiore, quattro le vittime accertate, l'imbarcazione sulla quale viaggiava questa committiva di persone si è capovolta a causa del maltempo, ma soprattutto guardate, sulla barca affondata gli 007 del Mossad in Gita, il Mossad vi ricordo è il servizio segreto israeliano. Andiamo sulla Repubblica, il titolo, il vento della destra, elezioni amministrative ai ballottaggi, la coalizione di governo vince con ampio margine e si aggiudica 5 capoluoghi su 7, oltre a Catania, Ragusa e Trapani al primo turno. La sinistra si ferma a Vicenza, Slain da soli non si vince, poi Meloni festeggia pensando al premierato, le roccaforti rosse non esistono più. E poi insieme la notizia della Spagna al voto anticipato dopo il tracollo socialista che apre la strada a Popolari e Vox. C'è un commento di Stefano Folli proprio sul voto, il nuovo anno zero del Nazareno, il centrosinistra scompare al secondo turno del voto nei comuni, era il terreno per tradizione più favorevole alle amministrative. Così l'inizio appunto del commento di Stefano Folli. La fotonotizia, gli scontri in Kosovo, battaglia tra serbi e soldati Nato, feriti 14 alpini del reggimento Aquila. Vediamo la stampa, Meloni stravince al PD solo Vicenza, ballottaggio a senso unico, il centro-destra espugna Ancona e si conferma a Siena, dem male anche in Sicilia. E poi il commento della Premier Meloni, il buon governo paga, Schlein da soli si perde, parla Tajani, c'è un'intervista proprio al ministro Tajani, dice il centro è decisivo. Di spalla anche in questo caso la notizia sulla Spagna, sconfitta socialista, si dimette Sanchez e poi ancora abbiamo un commento di Marcello Sorgi a proposito del voto, la destra travolge una sinistra suicida, si dice che a Potto quando in una partita la vittoria di una delle due squadre è talmente forte, sproporzionata da lasciare senza speranze l'altra. E il commento anche di Annalisa Cuzzocrea a proposito della leader del PD Elish Line, prigioniera nel suo labirinto. La foto notizia, gli sono gli scontri in Kosovo, attacco agli italiani. Vediamo rapidamente la prima pagina anche del messaggero, il centro-destra vince nelle città, dominati ballottaggi ad Ancona, Siena, Pisa e già presa Catania, c'è lo spoglio tra l'altro per il risultato siciliano proprio in queste ore. Meloni, premio al governo e poi la sorpresa Bandecchi, sindaco a Terni, Vicenza va al centro-sinistra ma per Schlein è una batosta. E qui vedete nella grafica appunto i risultati definitivi dei ballottaggi. Restiamo su questa prima pagina perché c'è l'accoltellamento, eccolo qui, ti devo interrogare, lui accoltella la prof e poi il Lago Maggiore nella barca muoiono affogati 3-0-0-7. E allora ci fermiamo qui qualche istante alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Vi aspettiamo. Eccoci qui, ben ritrovati, sono le 7 e 11 minuti. Ho preso la prima pagina del foglio, andiamo a leggere il commento del direttore Ceraso, lo vedete qui dal simbolo della ciliegia rossa e allora il suo commento, il suo editoriale è dedicato naturalmente in questo caso al voto. Il titolo poca armonia, molto monocolore, Meloni e compagni vanno bene ovunque e la sinistra vince con i candidati più lontani da Schlein. E poi in quest'altro sommario alla destra un po' più moderata, piace la fuga dal moderatismo del PD. No, lezioni comunali senza esagerare. Questo è il titolo del commento. Vediamo il fatto quotidiano. Morituri, te salutant con la Meloni appunto con le mani aperte e poi accanto nel montaggio ci sono i tre leader politici. Ballottaggi, trionfano alle destre, effetto Schlein a rovescio. E poi la notizia del Kosovo, eccola qui sotto. Feriti 11 alpini nella guerra rimossa. Ci ricorda che questo, come dire, è un conflitto che non è mai rimasto sopito per anni, ma insomma è sempre stato gli scontri fra i serbi e le truppe di Pristina. Andiamo a vedere il giornale. Centrodestra a Valanga, la Schlein, Rottama, il PD, comunali 10 a 4 per la coalizione di governo, Flop, Dem e 5 Stelle. Berlusconi e Salvini, grande soddisfazione. Meloni, consenso tra gli italiani. C'è un'intervista al ministro Tajani, l'esecutivo esce rafforzato, Forza Italia determinante e poi c'è un commento del direttore Augusto Minzolini che conosce bene la politica. Un paese senza opposizione, questo è il titolo del suo editoriale. La fotonotizia si riferisce agli scontri in Kosovo, vedete Molotov sui soldati della Nato, 14 italiani feriti. Vediamo libero. Centrodestra Valanga, Ciaone a Elie, l'Ischlein naturalmente, PD travolto nei comuni, vince a Vicenza dove l'Ischlein era stato detto non venire e lei scarica le colpe sul partito. Anche Alessandro Salusi, il direttore, ha un suo editoriale chiaramente che è legato proprio al voto ai ballottaggi che ci sono stati appunto domenica e ieri nella seconda giornata. La notizia sul Kosovo, caos in piazza, feriti 14 militari italiani. E poi c'è questa notizia che viene ripresa anche da altri giornali. A proposito dell'inchiesta sul Covid, lo sapete, hanno stati convocati qualche settimana fa sia l'ex Premier Conte che l'ex Ministro della Salute e Speranza. Per i PM gli errori di Speranza e Conte non sono reati, cioè ci si avvia appunto ad archiviare le accuse. Vediamo il manifesto. Sanchez, shock, Spagna al bivio, lo sapete, dopo il risultato delle elezioni il Premier ha annunciato le sue dimissioni e si tornerà ancora al voto però più avanti e per eleggere a questo punto però il nuovo esecutivo. Invece nella fotonotizia di spalle la Premier Meloni e il titolo è Ancona tu, perché Ancona è la prima volta che viene assegnata la guida di un candidato del centrodestra e naturalmente come sempre il manifesto gioca con le parole Ancona tu. In alto leggiamo la destra conquista Ancona e Brindisi, il PD fallisce, la riconquista delle città toscane, Meloni esulta, Salvini ironizza sull'effetto Schlein, la Lilia Drem sconfitta netta e striglia Conte. Ricostruire un campo non è solo compito nostro, ai critici interni non si cambia in due mesi. Andiamo a vedere ancora altri giornali, la verità il PD non ha visto arrivare gli elettori, effetto Schlein e le amministrative sorridono a Meloni, Salvini e Berlusconi. La notizia di Conte e Speranza dividete insieme a proposito dell'inchiesta sul Covid, i PM non vogliono fare il processo a Conte e Speranza sulla pandemia. Ancora vediamo avvenire il titolo, le città girano a destra, il centrodestra vince 9 a 3 conquistando anche Ancora e Brindisi, il centro e sinistra strappa solo Vicenza, in Spagna dominano i popolari con Vox, Sanchez si dimette e fa sciogliere le camere al voto a luglio. Così il titolo di avvenire. Allora andiamo agli approfondimenti, naturalmente tutte le prime, le pagine interne dei giornali sono dedicate ad un'analisi proprio del voto dei ballottaggi. Allora al Corriere della sera a pagina 2, dominio del centrodestra, il PD prende solo Vicenza, dopo il ballottaggio 9 capoluoghi su 13 sono andati alla coalizione di governo. Il commento della Premier, vittoria storica, non esistono più le roccaforti. Andiamo a vedere però Massimo Franco che analizza naturalmente il risultato del voto, che cosa scrive. Allora il titolo un risultato che va letto con lenti anche europee, il risultato appunto che sarà letto con lenti europee oltre che italiane, tanto più dopo la vittoria delle destre anche in Spagna. Il lungo colloquio di ieri ad Arcore tra Silvio Berlusconi e il capo della Lega Matteo Salvini ha avuto a che fare solo marginalmente con il voto amministrativo. C'è da scommettere che il vero argomento siano state le elezioni del 2024 in Europa, tema al quale entrambi sono molto sensibili. Berlusconi come leader di un partito che aderisce al PPS, Salvini perché finora è stato, si è confinato nel gruppo di estrema destra escluso da ogni in carico. Così l'inizio della nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera. Restiamo sul Corriere, andiamo a pagina 3 perché in questa grafica si vede bene quelli che sono stati i risultati dei ballottaggi. La segretaria dice una sconfitta netta da soli non si vince. La segretaria naturalmente è l'isline del PD, serve più tempo e nel primo turno in Sicilia Fratelli Italia, Lega e Forza Italia si impongono a Catania, però appunto ci sono ancora gli spogli e lo spoglio dei voti in corso in queste ore. Meloni marca la distanza, all'effetto slime non c'è, è una sfida mai partita. Andiamo ancora avanti, andiamo sulla stampa perché c'è Marcello Sorgi che continua appunto nella sua analisi, la destra travolge una sinistra suicida, l'abbiamo letto già nella prima pagina però appunto il seguito della sua analisi l'ho trovata a pagina 29 e poi andiamo a pagina 5 della stampa, c'è un'intervista al ministro degli esseri italiani che però anche vicepremier, dice una rivoluzione culturale, in politica si vince al centro, il vicepremier risulta, trionfo oltre le attese, ora alleanza con i conservatori in Europa, gli elettori puniscono un PD spostato troppo a sinistra, possa mai, possa mai, è il neoletto sindaco di Vicenza, dice una vittoria sporadica. E allora tra le varie domande che li fanno questa dice un effetto, slime al contrario sostanzialmente il risultato elettorale, dice ognuno farà la propria analisi ma un PD spostato sempre più a sinistra a mio avviso allontana molti elettori, ad esempio ex democristiani ed ex socialisti che sono sicuro abbiano votato per i nostri candidati, poi la coalizione di centro-destra si è mostrata compatta e seria al contrario del campo avversario, non a caso abbiamo confermato i sindaci anche nelle città toscane da Pisa a Siena a Massa dove il PD sperava di recuperare. Unica eccezione Vicenza dove avevate il sindaco e l'avete perso perché dice, ammette Tagliani, qualcosa non ha funzionato, può succedere, sono stati commessi errori, ex assessori allontanati dal sindaco uscente, si è pregiudicata la coesione di cui parlavo prima e poi possa mai che appunto il sindaco di Vicenza che ha vinto per una manciata dei voti non ha un profilo molto vicino a slime, ha fatto una campagna elettorale senza i leader di partito, la definirei una vittoria sporadica. Questa è l'analisi di Tagliani. A pagina 7 della stampa ci sta un'analisi a cura di Annalisa Cuzzocrea, il titolo è lì la caduta, non basta la freschezza di una nuova segretaria, il partito è tutto da ricostruire, servirà un lavoro di squadra per superare la vaghezza dei programmi e il nodo da sciogliere. C'è sempre Elislein anche sulla una foto sua a pagina 5 del Corriere della Sera, lo psicodramma al Nazareno, una disfatta era prevedibile e vi segnalo in basso però un'intervista al capogruppo al senato del PD Francesco Boccia, dice Elis si è trovata alleanze già fatte, noi la prima lista è il PD il problema, le europee ammette Boccia, saranno decisive. Andiamo ancora avanti perché sulla Repubblica a pagina 2 naturalmente si parla ancora di voto, la destra vince ovunque e la sinistra solo a Vicenza, vi segnalo in basso un'intervista a Baruffi che è il responsabile ente locali del partito, dice una grande sconfitta ma ora non processiamo Elis, andando naturalmente un po' rapidamente per mostrarvi un po' tutto. A pagina 3 di Repubblica la rabbia di Elislein, una lezione per noi ma pure per il Movimento 5 Stelle. Andiamo ancora avanti, sempre su Repubblica, c'è un'intervista al sindaco di Vicenza, possa mai l'unico risultato positivo del PD, in questo caso parlando di grandi città, ho vinto schierandomi al fianco degli ultimi e dei giovani. Allora io mi fermo qui con la lettura dei giornali, c'è Paolo Sottocorona Paolo io ti do il buongiorno ma vedo molte nuvole, insomma che ci aspetta? Temo la pioggia nei prossimi giorni, dici bene, a te, ciao. Buongiorno, buongiorno Fabio, la pioggia va in parte temuta, abbiamo visto, è in parte come al solito aspettata, il problema della pioggia, adesso proprio in 5 secondi, il problema della pioggia nei prossimi anni sarà o troppa o troppo poca, questo è un po' quello che ci aspetta. Queste nuvole che si vedono al momento, questa a cui si riferiva Fabio, sono al di fuori di quella circolazione che abbiamo avuto nei giorni scorsi e che avremo ancora oggi e ancora domani, vale a dire anche durante la notte queste nuvole ci sono, vedete ci sono piogge sul mare, il che significa che non sono quelle che dipendono dal riscaldamento diurno e poi c'è questa linea di nuvole che sembra una piccola perturbazione, in realtà gli effetti più significativi saranno quelli nuovamente del pomeriggio. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di oggi, vedete in Sardegna sì c'è qualche pioggia e ci sono delle piogge sul mare, proprio a dimostrazione che non sono quelle del pomeriggio, mentre invece sul nord, soprattutto il nord-ovest, le zone interne del centro, del sud, vedete i fenomeni intensi sono piuttosto frequenti, non sono neanche isolatissimi perché cominciano a compattarsi, ci sono delle zone con questi fenomeni. Un occhio come sempre alle zone dell'Emilia Romagna che potrebbero avere delle piogge deboli per oggi, però vedete che questa instabilità è ancora ben presente. Vediamo la giornata di domani in cui sempre e soltanto nel pomeriggio, ancora una volta forse con l'eccezione della Sardegna, ci sono questi fenomeni, forse fra centro e sud leggermente meno presenti che oggi, non è un'attenuazione di questi fenomeni, ma forse ce ne sono un po' meno. Sicuramente ce ne sono meno sulla parte centro-orientale del nord, ce ne sono decisamente di più dove invece sulla parte occidentale a prendere l'Alta Lombardia, il Piemonte, anche la Liguria di Ponente, la Valle d'Aosta e la previsione è di piogge localmente moderate sull'Emilia Romagna e qua ovviamente scattano tutti i campanelli di allarme perché sentivo giusto ieri che stava un po' rientrando la situazione, lentamente stava migliorando, questo speriamo che non peggiori la situazione. Poi giovedì in attenuazione anche la forte instabilità sulle zone di nord-ovest, ma qualcosa resta sull'Emilia, l'Alta Toscana, parte della Liguria, la Sardegna, anche le zone interne del centro, però con fenomeni meno presenti. Resta piuttosto instabile è la situazione sul basso tirreno e Sicilia, quindi questo meccanismo delle piogge e dei temporali pomeridiani continua ancora per un poco. Le minime di questa mattina? Basse non sono tutto sommato perché poi questi temporali non sono portati dall'ingresso di aria fredda, è sempre la stessa aria che si ricicla e anche la stessa acqua, come diciamo ieri, che teoricamente è la stessa acqua che cade, poi evapora e poi riforma le nuvole e poi ricade. Chiudiamo con lo stato dei mari, tranquillissimi, solo parte del Mar Ligure potrebbe essere localmente mosso, se no siamo sul filo del poco mosso e a volte neanche quello. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. A più tardi.